Aveva aggredito un medico ed un tecnico dell'Asla Sansepolcro, causando al primo alcune contusioni e addirittura rompendo tre costole al secondo. L'uomo, un 44enne di Sansepolcro, adesso sarà denunciato dalla Asla. L'azienda sanitaria ha infatti dato mandato al proprio ufficio legale di predisporre tutta la documentazione necessaria per presentare formale denuncia nei confronti dell'aggressore, con l'obiettivo, si legge in una nota, di tutelare in primis i propri dipendenti, poi anche l'immagine dell'azienda, il servizio ai cittadini e la sanità pubblica. Il violento episodio si era verificato nel pomeriggio di lunedì attorno alle 16 nel distretto dell'azienda sanitaria. L'uomo era entrato nella stanza chiedendo informazioni sulle cure mediche prestate poco prima al figlio. A preoccuparlo sarebbero stati i valori delle analisi. Il 44enne, dopo le spiegazioni, è uscito dalla stanza, nella quale però è rientrato quasi subito e dopo aver bloccato la porta ha assalito i due sanitari. Un'aggressione in piena regola finita con tre persone in ospedale, i due operatori sanitari e lo stesso 44enne. L'aggressore ha avuto cinque giorni di prognosi, mentre il dirigente medico ne avrà 25 a causa delle contusioni riportate e il tecnico addirittura 35 avendo subito la frattura di tre costole. Un episodio in cui i contorni sono ancora tutti da ricostruire sul posto era intervenuta la polizia di Stato.